Tra la prima e la seconda stagione di Romanzo Criminale girai un film che si chiamava La Bella Società. E per me fu un regalo bellissimo perché giravo insieme a Giancarlo Giannini. Mi ricordo che però lo conobbi il primo giorno già sul set e io facevo la parte di un ragazzo non vedente che poi veniva operato e riacquistava la vista. Era ambientato negli anni 70. Io scendevo dalla stazione di Leonforte, mi sembra, in Sicilia, rientravo in Sicilia dopo essere stato tanto tempo a Torino e dovevo riabbracciare mio fratello. E mio fratello stava accanto a quello che era un amico di famiglia, ovvero Giancarlo Giannini. Io dovevo scendere dal treno, correre, che finalmente lo vedevo, verso mio fratello ed abbracciarlo. Cominciamo a fare la scena e io mentre corro non vedevo altro che Giancarlo Giannini davanti a me, ma io dovevo correre verso mio fratello, mentre...